Eccoci qua, in compagnia di mia nonna. Questo per dirvi solo che Novabbé non è solo un sito internet. Novabbé.com lo potete trovare anche sui social. Ma quali social? Allora, lo primo è Facebook. Ok, che sarebbe... vabbè tutti conosciamo Facebook. Poi c'è in... YouTube. Ok, c'è il tubo. Poi c'è Insta... 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 Instagram. Insta Cagridi. Insta Cagridi e Twitter. Ah, no, Twitter l'hai detto giusto. Twitter. Twitter. Quindi, ricordatevi che non è solo un sito, ma lo trovate anche su Facebook. Facebook. YouTube. Instagram e Twitter. Ah, e Twitter. Ci va a creare di tutti quanti ci siti. Ecco. Ecco. Alla prossima. Ci va a creare di tutti quanti ci siti. Tutti quanti ci siti. Tutti. Tutti. Quanti siti, siti, tutti. Tutti casiti, siti. Alla prossima. Alla prossima.